Vecchio Palace, proseguono insistentemente i lavori per l'inaugurazione Furti nelle casette di legno in piazza, ladro via coi soldi della cassa Turismo, Varotti, il 2024, trampolino di lancio per gli anni futuri Per il Natale che non ti aspetti, festività da record di visitatori WL, caccia al sostituto di Bamford, piace Keith Hornby Una buona serata ai telespettatori di Rossini TV Ben ritrovati con una nuova edizione di Rossini News Telegiornale di oggi, mercoledì 3 gennaio, che apriamo parlando di uno dei cantieri Che ormai da anni è tra i più discursi nella città di Pesaro Stiamo parlando del vecchio Palace di Viale dei Partigiani Che a breve, il 29 febbraio, verrà riaperto al pubblico con la sua inaugurazione ufficiale Il punto sui lavori che stanno proseguendo anche in questi giorni di festività Da parte dell'assessore Riccardo Pozzi Assessore Riccardo Pozzi, siamo qua davanti al vecchio Palace di Viale dei Partigiani I lavori proseguono insistentemente C'è una data di inaugurazione che è stata confermata, quella del 29 febbraio Quali sono gli ultimi aggiornamenti? Sì, anche oggi 3 gennaio si lavora a pieno ritmo al Palazzetto dello Sport Devo dire che anche le ditte che hanno vinto il secondo appalto In particolare Zolfanelli, Impe e Gambini Stanno lavorando davvero con grande dedizione Per rispettare quella che è la tempistica e la data annunciata dal sindaco del 29 febbraio È chiaro, è un cantiere complesso, particolarmente complesso Non l'abbiamo mai nascosto Ed entrare rispetto ad un intervento già iniziato è sicuramente un elemento di difficoltà, di complessità in più Però devo dire che si sta lavorando tutti con questo grande obiettivo Per riconsegnare alla città una struttura nuova, si può dire Nel senso una struttura che sarà in grado anche di fare accendere quella passione E quelle emozioni che il vecchio Anger sapeva trasmettere Ma al tempo stesso una struttura, un auditorium scavolini appunto Per una capienza tra i 1200 e i 1500 posti come in questo momento manca in città Per ospitare tutta una serie di eventi, iniziative culturali, convennistica E anche eventi sportivi che possono in qualche modo attrarre una capienza di pubblico di questo tipo Sarà un palazzetto diciamo all'avanguardia, un palazzetto del 2024? Sì, un palazzetto tecnologicamente avanzato come richiedono oggi degli standard anche di qualità di innovazione importanti Questo anche grazie a un contributo del CTE Nel senso che la città delle tecnologie emergenti Che questa grande opportunità che vivrà a Pesaro insieme alla capitale italiana della cultura Diventa anche un'opportunità per studiare delle innovazioni tecnologiche dal punto di vista dell'illuminazione E di altre sorprese che poi vedremo nel 2024 Un palazzetto su cui profitto anche per ricordare gli interventi anche di risestimazione Che andremo a fare sulla parte di Viale Marconi Che in questo momento non sarà una piazza Perché la coesistenza di due cantieri come quello del palazzetto Dei locali commerciali che dovranno sorgere al piano terra E al tempo stesso della piazza era particolarmente complicato Soprattutto per coincidere questi tre cantieri rispettare la data del 29 febbraio Per cui in questo momento andremo a fare una sistemazione di quella parte di passaggio Di percorso pedonale, di marciapiede che gira intorno al palazzetto dello sport E poi successivamente andremo a rivedere l'idea progettuale Che consente di dare più respiro al palazzetto dello sport Brutta sorpresa nella mattinata di ieri 2 gennaio per gli ambulanti Che da settimane sono presenti nelle casette in legno del villaggio natalizio di Piazza del Popolo A loro arrivo infatti molti di loro si sono ritrovati con le porte d'accesso forzate Viti a terra e soprattutto con la mancanza di soldi in cassa o di articoli in vendita A conti fatti quasi la metà delle casette della piazza sono state visitate dai ladri E il bottino ammonterebbe a diverse centinaia di euro Il 2024 non poteva riservare un inizio più dolce a Federica Pellegrini e Matteo Giunta La campionessa italiana e il marito allenatore pesarese sono infatti diventati genitori della loro prima figlia Alle ore 6.51 del 3 gennaio è infatti nata Matilde L'annuncio è arrivato con un tenero scatto sui social in cui i neogenitori hanno anche appunto rivelato il nome della piccola E l'itinerario della bellezza di concommercio Marche Nord non può non riservare uno spazio importante e fondamentale Nell'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024 Un evento quello che coinvolgerà tutta la provincia che secondo il direttore Amerigo Varotti farà da trampolino di lancio per gli sviluppi futuri del turismo locale Siamo entrati nel 2024, anno di Pesaro, capitale italiana della cultura Quali sono diciamo anche le aspettative dal punto di vista turistico da chi concommercio Marche Nord il turismo lo fa da anni con il suo itinerario della bellezza? Diciamo che concommercio da sempre impegnata sul fronte della promozione turistica Avendo creato già nel 94 un tour operator per fare incoming nel nostro territorio Il progetto itinerario della bellezza che negli ultimi anni ha riempito le pagine di giornali a livello nazionale e internazionale E' un successo straordinario della nostra organizzazione tant'è che quest'anno 2024 Sono 24 i comuni che hanno aderito all'iniziativa e che hanno conferito a Commercio l'incarico della promozione All'interno dell'itinerario della bellezza Pesaro, capitale della cultura 2024 ha uno spazio importantissimo, fondamentale Noi abbiamo un'aspettativa grande in merito alla comunicazione che sarà fatta e che è stata fatta e che sarà fatta durante l'anno per Pesaro e la provincia Non solo e non tanto per i riflessi che quest'anno avrà l'evento di Capitale Italiano della Cultura Ma per i prossimi anni, cioè il 2024 come un trampolino di lancio per futuri positivi per l'economia turistica della nostra provincia Per questo noi stiamo già lavorando, usciamo a giorni con la nuova guida dell'itinerario della bellezza Dove c'è peso la capitale della cultura con il calendario degli eventi che in tutta la provincia ci saranno quest'anno Lo presenteremo la prossima settimana a Utrecht in Olanda e poi il 5 di febbraio alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano E abbiamo poi già programmato tutta una serie di eventi, di iniziative, serate promozionali, fiere in Italia e all'estero Per continuare questa attività di promozione che giocherà molto sul fatto di Pesaro Capitale Italiano della Cultura Io devo esprimere mie congratulazioni a Daniele Vimini per il lavoro che ha fatto, che sta facendo anche in collegamento con il Rossini Opera Festival Per promuovere Pesaro e Pesaro Capitale della Cultura Tante le iniziative che loro hanno programmato sono assolutamente di spessore, molto valide Sta a noi poi anche contribuire attraverso una capillare formazione e informazione, cosa che insomma stiamo facendo Il Comune di Vallefoglia ha comunicato questa mattina che sono terminati i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio Adiacente all'Auditorium Cinema Teatro Giovanni Santi di Bottega, che a breve vedrà la sua inaugurazione Questo nuovo parcheggio con circa 35 posti auto darà ai cittadini residenti, agli insegnanti, ai genitori e a quanti si troveranno a frequentare il teatro La possibilità di trovare posteggio molto più facilmente senza congestionare l'ingresso dei plessi scolastici Anche i lavori all'interno dell'Auditorium stanno proseguendo per essere pronti per l'inaugurazione della settimana Della capitale italiana della cultura Pesaro 2024, di cui Vallefoglia sarà protagonista dal 22 al 28 gennaio Domani 4 gennaio prende il via la tre giorni dedicata alla festa nazionale della Befana ad Urbania Domani il primo appuntamento, come da tradizione con la Befana, che alle ore 15 riceverà dal sindaco Marco Ciccolini le chiavi della città E per tre giorni sarà libera di governare come meglio crede Dalle 16 inizierà la prima discesa acrobatica della Befana dalla Torre Civica La stessa discesa sarà poi ripetuta alle 17 e alle 18 Alle 18 e 15 dal Teatro Bramante partirà la sfilata della calza più lunga del mondo Alla quale la Befana lavora ogni anno e che ha raggiunto la lunghezza di 70 metri Gran finale la sera con lo spettacolo La Principessa sul Pisello del gruppo teatrale Il Palchettone Per tutti e tre i giorni della festa nazionale sarà attiva anche la Fiera della Befana Un serpentone di bancarelle ed espositori che circonda la festa con prodotti tipici, artigianato, street food e sapori da tutto il mondo A Fermignano sabato 6 gennaio alle ore 10 verrà inaugurato il nuovo edificio scolastico Che ospiterà le classi della scuola primaria di Fermignano e del distaccamento di Calpino L'edificio accoglierà poi gli allievi e le allieve già da lunedì 8 gennaio Per l'inizio delle lezioni dopo lo stop natalizio Il complesso è formato da una superficie di oltre 10.000 metri quadri Di cui circa 7.000 di verde Che ha reso possibile la costruzione di una pista d'atletica ai campi da mini volley e mini basket L'edificio è un vero e proprio fiore all'occhiello Edificato nell'ottica della sostenibilità energetica E ultra performante a livello antisismico Grande soddisfazione l'ha espressa il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi Che ha ricordato come i lavori cominciati nel novembre del 2021 Hanno avuto un costo complessivo di circa 6 milioni di euro Tutti finanziati tramite bandi nazionali e regionali Da anni ormai punto di riferimento di turisti e visitatori Il Natale che non ti aspetti anche per queste festività Ha superato tutti i record dal punto di vista delle presenze In attesa di quest'ultimo fine settimana che coinciderà con l'epifania Il presidente provinciale del Proloco Damiano Bartoccetti Ha fatto un bilancio di quello che ormai è diventato un brand territoriale Unico per l'intera regione Marche Un grande successo intanto parziale dei dati del Natale che non ti aspetti Solo nel weekend dell'Immacolata abbiamo avuto circa 60 mila presenze Da tutta Italia un grande successo Ma il successo è dei volontari e dei territori Perché hanno vinto due persone Cioè la personalità del territorio e la persona fisica che è il volontario Una grande programmazione di eventi che racchiude il Natale che non ti aspetti Che grazie alla regione Marche, al contributo degli sponsor Soprattutto al main sponsor, l'LC Mobile e Villa della Cerbara Che hanno contribuito a promuovere sempre meglio e sempre di più i nostri territori Grazie a questo grande lavoro di squadra che abbiamo messo in campo Siamo riusciti ad avere dei risultati straordinari E anche un'immagine straordinaria della nostra provincia e della nostra regione L'evento unico nella nostra regione Marche Per noi è un motivo di grande soddisfazione Soprattutto perché i volontari hanno dato veramente, veramente tanto E questo è il successo, la presenza di tanti turisti Tanti pullman da tutta Italia Tanti camper, tante macchine, tante famiglie Che hanno soggiornato nei nostri alberghi Nelle nostre strutture ricettive Soprattutto hanno acquistato prodotti del nostro territorio Perché proprio il nostro intento è promuovere l'architettura Quindi la storia Promuovere i prodotti tipici agroalimentari del nostro territorio E anche l'artigianato artistico Perché grazie ai nostri mercatini Sempre di più incentiviamo anche i ragazzi, i giovani A lavorare, a usare il proprio ingegno Cioè quindi il legno, il rame Tutto quello che deriva dalla manualità Quindi tutto l'artigianato artistico Diamo un valore perché se portiamo turisti I prodotti vengono venduti Sempre di più c'è richiesta di fare l'artigianato artistico Di produrre il prodotto Cioè la materia prima dell'agricoltura Quindi un grande connubio Che io spero che sempre di più Si unisca tra tutte le forze E che tutte le forze ci vengano a traino Per aiutare un grande progetto Che non aiuta la singola persona Ma stiamo aiutando un territorio Un'economia straordinaria del nostro territorio Che la vediamo ormai sotto gli occhi di tutti Io penso che nella regione Marche Oltre ad essere l'unico evento che catalizza Ma è stato anche l'unico evento Che è riuscito a promuovere su tutte le televisioni nazionali La nostra bellissima provincia E la nostra regione Marche E il 9 gennaio al Teatro Rossini di Pesaro Ci sarà il primo concerto italiano Della Afghan Youth Orchestra Lo spettacolo dedicato per la libertà Del popolo dell'Afghanistan Vedrà le musiciste dell'Orchestra Olimpia Insieme sul palco Con i giovani musicisti afghani Per un totale di circa 40 artisti Ospiteremo il primo concerto italiano Di Afghan Youth Orchestra L'Orchestra giovanile dell'Afghanistan Questa orchestra composta da Oltre 40 elementi Fra ragazzi e ragazze Arriverà con una delegazione di 25 persone Che si uniranno all'Orchestra Olimpia Per un concerto al Teatro Rossini Dove metteremo insieme Gli strumenti della nostra tradizione occidentale E gli strumenti della musica tradizionale afghana Per un concerto davvero speciale Ricordiamo che questi ragazzi E tutta la comunità musicale dell'Afghanistan È esiliata in Portogallo Fin dal ritorno dei talebani Nel 2021, 15 agosto Da quel momento la musica in Afghanistan È tornata ad essere un crimine Che è perseguito con il carcere E anche con la stessa vita Con l'aiuto della comunità internazionale Tutta la scuola Afghanistan National Institute of Music Con cui l'Orchestra Olimpia Intrattiene rapporti fin dal 2019 Sono riusciti ad arrivare in maniera sicura In Portogallo Dove hanno ottenuto l'asilo politico di gruppo Siamo molto felici di ospitare questo concerto Che prima di Pesaro è stato all'ONU a Ginevra E ha riscosso un enorme successo Per il messaggio che porta Di un Afghanistan diverso Perché la giuventù afghana Crede di essere rappresentata da valori diversi Che sono quelli dell'inclusione Sono quelli della parità di genere E della fratellanza Vi aspettiamo al Teatro Rossini Per questo evento davvero unico Straordinario oserei dire Storico e importante E concludiamo il nostro telegiornale Che parlano di un interessamento Della società pesarese Per Keith Hornsby 31 anni Alto 192 cm Hornsby al momento È nelle fila del Lietuvos Ritas Vantaggià diverse esperienze europee L'anno scorso A Nanterre in Francia Viaggiava a 14 punti di media Col 45% da 3 E il 93% dalla lunetta Prima dei saluti Come di consueto Uno sguardo alla programmazione Di Rossini TV Questa sera In prima serata Alle 21.20 Come ogni mercoledì Gli occhi della Tigre Il programma dedicato Alla Megabox Vallefoglia Ospite Agnese Cecconello E l'appuntamento Naturalmente Con l'informazione Per domani mattina Con Buongiorno Rossini Dal lunedì al sabato Alle 7.20 In diretta Domani mattina Ci sarà il nostro Antonio Astuti E a questo punto Abbiamo veramente Concluso Per cui non ci resta Che augurarvi Una buona serata E invitarvi A restare sempre Sintonizzati Sul canale 80 Di Rossini TV